La che cerca chi frequenta la costa italiana, cesellata dalle aree marine protette. A Portofino, dal 1949, i cantieri Navagli Mussini costruiscono bacche in legno, una produzione artigianale, con la Corvetta 24 e il primo tentativo di Full Electric. Attualmente ha due motori da 30 kW che sono accoppiati tramite una puleggia per esprimere poi la forza su un'unica aerea, su un unico asse. In futuro dovrebbe uscire con un motore solo. E quindi avere anche un po' meno peso, che fa sempre bene in termini di recupero di energia e ore di autonomia. L'incontro di tradizione e innovazione produce risultati sorprendenti. Quando l'abbiamo messo in acqua, che sono giunto durante la nostra navigazione, siamo arrivati prima a Portofino, che è la nostra location, e poi siamo arrivati fino alla Baia di San Fruttuoso. Nel totale silenzio è una sensazione che fa venire i brigli, perché il mare ci ha dato tanto. E adesso avere un po' di fortuna di poterlo rendere qualcosa al mare, a dire ci siamo ma non ti inquiniamo, non ti creiamo un danno, comunque è una piccola soddisfazione a quello. Grazie. 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 Grazie.